Sono Lely e adesso farò la reaction di Jackson Wang home Oddio oddio no 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 Oddio oh oddio perchè se ne va basta non mi piace oddio tutta la vita che sono aspetta di sentire da fare per un film oddio oddio la tua voce no mi giuro è un sogno è un sogno è un sogno è un sogno oddio oddio è struttura è struttura oddio oddio la canzone è bellissima non riesco a parlare si è vero che sei bene i'm not feeling good i'm not feeling good no mi giuro oh mio dio madonna comunque mi piace questa parte dato che jackson molte volte non si piace ti sembra tanto che se la tire ma in realtà in molte case è ancora molto insicuro guarda qua madonna no ci sembra il mamma il mamma madonna no ma si può guardare no 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 qua quella parte che sembra tipo un film cinese no queste parti qua cosa sembra? no a parte col fuoco giuro voi wait what ma ci sono ci sono le teste dei bambi attaccati erano bambi si erano bambi perché aveva le macchie comunque oddio a parte che mi è sembrato durare 5 secondi ma va bene comunque oddio abbiamo visto la stessa cosa no la canzone è stupenda è proprio bella 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 in suo tono di voce la parte in cinese è bellissima madonna madonna jackson e i visual devo dire che in papillon ero stata bene perché non c'erano state molte scene di jackson quelle poche che c'erano state mi avevano ucciso ma qui c'è troppo jackson troppo corpo di jackson la cosa non va bene non va bene non mi piace troppo troppa pelle e niente comunque in caso scrivete nei commenti cosa ne pensate voi del video e ci vediamo alla prossima reaction ciao ciao